Benvenuti a questa puntata di Tu per Tu, ospite nei nostri studi, Valerio Carocci, presidente del Piccolo Cinema America. Benvenuto. Grazie, saluto tutti che ci vedono. Grazie. Giovane, giovanissimo presidente in un paese come l'Italia, in cui si diventa presidente di qualcosa molto anziani. L'esperienza del Piccolo Cinema America nasce dalla occupazione di un cinema abbandonato e poi fa un percorso che arriva fino ad affermare questa associazione come un esempio internazionale di riappropriazione dello spazio pubblico e di elemento di vivacità culturale. Come avviene questo passaggio? Il processo è stato abbastanza naturale. Dopo lo sgombero del Cinema America abbiamo pensato che fosse necessario aprire un dialogo con le istituzioni. Quindi abbiamo formato un'associazione, la partita IVA, e abbiamo iniziato anche partecipando a bandi, concorsi e quant'altro a organizzare le nostre manifestazioni. Da lì è nata l'arena in Piazza San Cosimato, che per tre anni è illuminato Trastevere con oltre 80.000 spettatori registrati nell'ultima estate e successivamente abbiamo deciso di espandere e di esportare questo progetto nel resto della città. Così quest'anno le arene cinematografiche estive promosse dal Piccolo Cinema America sono diventate tre, tutte e tre a ingresso gratuito, che dal 1 giugno all'8 settembre illumineranno il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza, tra Coglianiene, San Basilio e Tor Cervara, il porto turistico di Roma ad Ostia, proprio molto vicino a Piazza Casparri, che è andata alle cronache molto di recente, e poi il liceo Kennedy di Trastevere in via Dandolo 106, che è un istituto scolastico tra i più storici di Roma, dove al cortile c'è questa arena cinematografica da mille posti, pronta ad accogliere tutta la cittadinanza, che ripeto può vedere i film a ingresso gratuito. Ecco, e quest'anno si è parlato tantissimo della piazza di San Cosimato, che è una ferita ancora aperta per i ragazzi del Cinema America. Voi avete lanciato moltissimi appelli alla sindaca Raggi, al vice sindaco Bergamo, al momento non si è ancora riusciti a ristabilire il destino della piazza. Sappiamo che il bando, tanto voluto da Roma Capitale, è andato quasi deserto. Voi a quel punto avete rinnovato l'invito, la disponibilità a prendervi carico della gestione della piazza. Al momento come sta la situazione? Stiamo dialogando col vice sindaco. Noi, come giustamente detto, abbiamo dato la nostra disponibilità a riportare il progetto del liceo Kennedy a Piazza San Cosimato, ma nel liceo Kennedy stiamo bene, quindi o questo è un atto che noi facciamo nei confronti dell'amministrazione comunale per ricucire il rapporto e quindi per andare incontro comunque all'esigenza dell'amministrazione di far avere degli eventi culturali in piazza San Cosimato, oppure se ci dovranno essere troppi paletti o problematicità, noi rimaniamo al Kennedy perché comunque va bene così. Il risultato l'abbiamo ottenuto. è stato dimostrato che l'intervento di Roma Capitale ha prodotto semplicemente l'abbandono dalle attività e dagli operatori culturali di una piazza storica della nostra città. Qual è il vostro rapporto con le istituzioni? C'è la Regione Lazio che ha sostenuto la vostra opera in Piazza San Cosimato e anche quest'anno. Con il Comune i rapporti sono diversi, non si è ancora arrivati ad una collaborazione. Come ve lo spiegate? Questo non ce lo siamo spiegato. Quando la sindaca Raggi è stata eletta, noi tra l'altro non avevamo, come non diamo mai, dato orientamenti o indicazioni di voto. Siamo una realtà totalmente apolitica che non ha un colore, non appartiene a un partito. Siamo dei ragazzi che con vocazione culturale e sociale si attivano e che quando la Raggi è stata eletta l'hanno invitata più volte alle iniziative via PEC per iscritto, in tutti i dovuti modi dei cerimoniali di quella che può essere la sindaca della capitale d'Italia. Purtroppo non ci ha mai risposto e ci sono stati numerose situazioni in cui è mancata anche di riconoscere l'importanza, il valore e l'impegno che si cela dietro al nostro lavoro. Tuttavia noi siamo di gomma su questo, quindi come abbiamo dimostrato noi andiamo avanti, le amministrazioni passano mentre i cittadini restano, gli operatori culturali, privati. Noi rimaniamo qui, quindi continuiamo nel rapporto degli enti che vogliono sostenersi e valorizzare la nostra esperienza senza imbrigliarla in dei meccanismi burocratici inutili che non sono previsti e richiesti dalla legge in maniera diciamo obbligatoria. C'è dietro all'opera del Piccolo Cinema America una concezione della cosa pubblica particolare? Sì, noi crediamo che anche laddove c'è l'esempio la proprietà privata del Cinema America comunque il Cinema America sia un luogo pubblico da piano regolatore, cioè un luogo che ha una destinazione d'uso sociale e culturale di proprietà privata, ma quella destinazione d'uso determina le tasse che la proprietà privata paga in base a quell'immobile, ne paga sicuramente di meno di quanto dovrebbe pagare se fosse un appartamento e quindi quella vocazione e quella funzione pubblica va mantenuta e noi l'abbiamo difesa a maggior ragione diciamo esponenzialmente si può fare un discorso analogo su Piazza San Cosimato, Piazza San Cosimato è di proprietà pubblica, è una piazza pubblica, il nostro evento non è un evento esclusivo cioè in cui solo delle persone possono partecipare, è un evento gratuito che valorizza il suolo pubblico nei confronti di tutta la cittadinanza mettendolo a disposizione e in qualche modo aumentando penso di milioni di volte la sua possibilità ricettiva ed attrattiva nei confronti dei cittadini, dei turisti, di chi attraversa la città, dai clochard ai bambini con i Disney e quindi quel tentativo di invece rendere esclusivo l'utilizzo di quella piazza magari con eventi che invece hanno delle recensioni o che magari sono a pagamento l'abbiamo trovato fuori luogo perché fosse stata la nostra arena un'arena a pagamento avremmo capito il motivo di un bando ma nel momento in cui l'investimento di noi ragazzi siamo volontari, la realtà non ha scopo di lucro, l'evento è gratuito, abbiamo trovato del tutto appunto una quasi svilimento del ruolo della piazza pubblica all'interno di una città. Questa concezione del bene pubblico è una concezione di sinistra secondo te? Io credo che in realtà no perché il proliferarsi di attività pubbliche le abbiamo avute come Mussolini e sotto il fascismo in cui lo Stato si faceva garante di servizi a tutta andata forse è una concezione di uno Stato presente che in passato purtroppo ha avuto un'evoluzione del tutto negativa ma che inizialmente nasce forse come un ideale di sinistra non lo so ma che è alla base di qualunque Stato e di qualunque governo voglia in qualche modo fornire dei servizi e noi in questo senso insieme secondo me le parrocchie presenti nei territori sono di Coglianieno, un po' di quartiere vicino a Torzapienza ma mio cugino che è di Ostia ad esempio nell'associazione ci segue social network, le uniche esperienze di spazi culturali e sociali in qualche modo fruibili al pubblico, non pubblici perché sono pubblici ma dello Stato Vaticano sono rimaste le parrocchie dei quartieri dove è finito la cosa pubblica in Italia, a Roma non c'è più quel servizio anche le scuole chiudono il pomeriggio e un ragazzo che magari abita in periferia, va al centro non ha uno spazio dove riunirsi, dove fare una qualunque riunione, studiare, deve per forza pagare pagare, 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 non è una cosa di sinistra, è una cosa che qualunque cittadino secondo noi dovrebbe chiedere a voce alta. E quest'anno avete distribuito un video, uno spot nel quale si parafrasava la frase di un famoso film e cito, si dice io non volevo solo andare al cinema, volevo avere il potere di farli riaprire. Parliamo della sala Troisi, che progetto è questo e perché proprio questa sala? Abbiamo partecipato a un bando tre anni fa di Roma Capitale, abbiamo superato due ricorsi al Taro, uno al Consiglio di Stato, due pareri dell'ANAC, l'Associazione Nazionale Anticorruzione, alla fine di questo lungo percorso giuridico siamo riusciti a ottenere la disponibilità del bene, due mesi fa abbiamo ottenuto il contratto dopo tre anni e adesso siamo i custodi e gestori di questo cinema, abbiamo partecipato a un bando del Ministero per il piano straordinario voluto da Dario Franceschini sulla riforma del cinema, abbiamo vinto il bando, quindi abbiamo trovato i finanziamenti per ristrutturare la sala, ora superata questa boriana delle arene ci metteremo al lavoro per fare l'appalto dei lavori sulle ditte. Siamo speranzosi di aprirla in pochi mesi, non l'abbiamo mai fatto però quindi ci stiamo cimentando anche in questo. Sarà uno spazio H24 aperto, fruibile, 365 giorni l'anno perché ci sarà una biblioteca, un aula studio al suo interno, 300 posti a sedere per la sala cinematografica, un grande schermo da 14 metri, faremo prima visione, retrospettiva, incontri, dibattiti, un po' quello che facciamo l'estate nelle arene tornerà nel cinema con questo servizio aggiuntivo della sala studio. Parliamo della periferia, abbiamo detto Ostia, il parco della cervelletta, cosa significa arrivare in periferia? Forse tornarci, perché siamo tutti della periferia noi in realtà, quindi questo fatto di andare al centro era perché era il luogo comune in cui tutti noi alla fine ci ritrovavamo per l'aperitivo, per bere, per chiacchierare e quant'altro. Costruito un modello comunque appunto di rilievo che funzionava in Piazza San Cosimato, volendo sempre crescere ci siamo domandati quale potesse essere l'evoluzione di Piazza San Cosimato e quindi è stata a riportarla nei nostri quartieri. È una sfida grande, non sempre c'è il pienone, non sempre c'è la risposta che magari uno sperava, però c'è risposta e questo mi sembra un dato fondamentale. Ieri sera diluviava, c'erano 40 persone al parco della cervelletta a vedere al Modovar sotto un gazebo mentre pioveva. Secondo noi è un traguardo, poi dobbiamo naturalmente valorizzarlo e farlo crescere. Domenica invece c'era Matteo Garrone, c'erano 1000 persone, quindi la potenzialità, la possibilità c'è. Ora dobbiamo declinare anche il progetto in base al territorio, ad esempio oggi abbiamo deciso che le programmazioni d'Orsa Piense e Ostia non saranno più in lingua originale, ma saranno in lingua italiana, perché ci siamo resi conto che c'è la maggior parte del pubblico che frequenta che non è pronto e non ha interesse in questo momento a vedere la lingua originale, mentre a Trastevere proseguiremo la lingua originale, quindi ci stiamo a sé stando. La città di Roma è una città in cui la periferia costituisce un problema, si parla tantissimo di Ostia in questi tempi, ma in realtà ci sono molte zone della città che non possono usufruire anche dei luoghi di svago di cui può usufruire chi vive in centro, portare l'arte in periferia, ha un qualcosa di rivoluzionario, qualcosa che va in controtendenza? Sì, per anni si è pensato che la periferia fosse una cosa e il centro della città fosse un altro, quello che abbiamo provato a fare è stato di rompere questo dualismo pensando questi tre luoghi non come l'arena di Tor Sapienza, ma l'arena a Tor Sapienza che deve essere in qualche modo vissuta dal resto della città. Lo stesso discorso vale per Ostia, quindi il pensiero forse nuovo, non mi prometto di dire rivoluzionario, ma ti ringrazio di averlo detto, che abbiamo fatto è quello di fare un unico programma, quindi è un'unica manifestazione e il pubblico si muove al suo interno. La cosa più bella è stata vedere gli stessi volti all'inaugurazione del Kennedy, all'inaugurazione di Tor Sapienza, all'inaugurazione di Ostia e non parlo esclusivamente dei nostri parenti, parlo proprio di persone mosse da Piazza San Cosimato per seguirci, ad esempio quando è venuto Garrone a Cervelletta c'erano dei ragazzi che studiavano con me a giurisprudenza che sono di Roma Nord e questo è un dato, cioè qualcosa di seriamente importante, perché quando poi la città si mescola cresce, mentre quando ognuno rimane nel proprio ghietto a livello culturale non ci si può solo che abbassare. Immaginiamo di avere uno spettatore che per la prima volta si ritrova un'arena sotto casa, un giovane spettatore che ha questa possibilità e che magari non conosce il cinema, non ne conosce la magia. Che pellicole consiglieresti di vedere? Beh, a Tor Sapienza abbiamo sicuramente la retrospettiva di Garrone ma anche quella di Miyazaki e volendo pensare ad un evento speciale abbiamo la serata con Riccardo Milani e Paola Cortellesi che è molto interessante secondo me. A Ostia abbiamo la retrospettiva Tarantino o la retrospettiva Fellini insieme ai Disney per i bambini il venerdì sera e ci sono due eventi molto belli che sono quello con Luca Guadagnino per la proiezione dell'impero dei sensi di Oshima e Luca Zingaretti che presenta Il Cacciatore di Michael Cimino. A Trastevere c'è sicuramente Woody Allen la domenica, Ingrid Bergamo il lunedì e invece il 10 luglio Gigi Proietti che presenterà Febbre da Cavallo. Quindi abbiamo dato delle indicazioni a chi volesse farsi un minimo di formazione. Il programma invece è su www.ilcinemainpiazza.it quindi chiunque può consultarlo. Abbiamo anche fatto dei cambiamenti per vederlo ancora meglio quindi è a disposizione della città. Valerio Carocci, 26 anni, presidente dell'associazione Piccolo Cinema America. Da grande cosa vuole fare? Per ora vorrei andare in vacanza quindi aspetto l'8 settembre e per ora sogno solo quello. Per il resto come dice lo spot vogliamo riaprire i cinema quindi vogliamo diventare degli esercenti cinematografici e dimostrare che questa attività che abbiamo fatto d'estate è anche una possibilità di indotto nel mondo audiovisivo perché poi riabitua le persone a stare davanti al grande schermo. Certo se apriremo il nostro cinema e non ci verrà nessuno non potremo che dire che abbiamo fallito ma siamo un po' più ottimisti. Grazie per essere stato con noi, l'appuntamento è la prossima puntata.